A Battipaglia e Palomonte ieri si sono registrati due incidenti, il primo frontale allo svincolo a due con i due mezzi distrutti, il secondo un 68enne si è ribaltato con il trattore in un campo a Palomonte. Il primo fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio di domenica intorno all'ingresso di Battipaglia, un pauroso impatto che ha paralizzato lo svincolo autostradale della capofile della Piana in direzione nord. Poco dopo alle 14, nel primo pomeriggio, il violento frontale tra una Mini Cooper guidata da una giovane e un veicolo commerciale. Lo schianto lungo la bretella utilizzata dai vari veicoli per rimettersi in autostrada in direzione Salerno e per arrivare a Battipaglia dalla vicina Eboli, una curva a doppio senso e uno dei due mezzi probabilmente invaso alla corsia opposta. Questa sarebbe la possibile ricostruzione del frontale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, infatti i mezzi sono distrutti. I due condocenti sono stati curati e medicati dal vicino ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Sul posto sono prontamente arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, agli ordini del commissario coordinatore Antonio Quaranta, in supporto alla viabilità anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti. Il secondo incidente è ieri nelle campagne di Palomonte. Un uomo di 68 anni è finito sotto al suo trattore mentre effettuava lavori agricoli in un terreno di proprietà in località Bibio. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Oliveto Citra. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che si è capovolto travolgendolo. Il soccorso delle sanitarie del 118 è stato trasportato all'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, dove è giunto in codice rosso. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato alle sanitarie del pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di ortopedia sotto stretta osservazione. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.